Che cosa è verità e che cosa è semplicemente una panzana? Il libro gioco che svela le nostre false conoscenze, il catalogo più completo di tutti gli errori, i fraintendimenti, le cantonate che abbiamo sempre scambiato per pura verità, storia, geografia, scienza, cultura generale, questo libro svelerà tutta la nostra ignoranza. Grazie.